E' il cane che ha fatto il miglior attacco nei maschi che sia chiaro che in ogni caso questo progetto, secondo i punteggi, ha fatto il miglior attacco assoluto. E quindi, secondo questo principio, il giudice ha già deciso, in ogni caso... Niente, stiamo evidenziando il soggetto che in assoluto ha fatto il miglior attacco, è il numero 113. E niente, no, 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 questo non è simile, attenzione. E secondo questo principio, il giudice già reputato che può fare il campione sociale, era lui, era segnato il primo trofeo, come vincitore del primo trofeo mi ha lui in Cimezzano, per i maschi. Quindi, il 113, per il primo anno, è il vincitore del trofeo mi ha lappure lui. E' un delirio? Sì, vabbè. E' definito che me stiamo facciando. Ovviamente non è il siger, ma attenzione, è il cane che ha fatto il miglior attacco ed è nell'elenco dei campioni sociali. Quindi la classifica non è nessun altro siger. Arresti. E' la ragione anche te. Io darei il colpo? Eh? Io do? Vai te, vai te. Vai dietro. No, lasciarci. Scusate, vediamo a vedere chi ci sono gli altri. Non si può andare in giù. Ares. Attilio, sono qua sotto. Io, caro, questo è il massimo. Ovviamente la classifica l'aveva già fatta, perché qui stiamo andando a ricordo. Non si vedono gli occhi, non si vedono tante cose. No! Erano già segnati. E' assegnati lì. Ares. Stimolala un po', stimolala un po'. Ah! Da la pallina, Paolo, muoviti. Brava. Vado a vedere, Fabio. Abbiamo le luci, Fabio. Un po'. Un po'. Omar e Eliano, venite qui, finiamo i gazzetti. È meglio, le tranzette le facciamo dopo. Chiamalo, chiamalo. Ares. Le tranzette le facciamo dopo. Venite in segreteria. Grazie. Ares. 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 Se state un po' più indietro vedono anche me e i giudici, sennò non si vede più niente. Se state un po' più indietro, sennò non è possibile valutare i cani, assolutamente, una persona che chiama e gli altri dietro. Sennò non è possibile valutare i cani. 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 Non è possibile valutare i cani. Non è possibile valutare i cani. Sennò 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 non è possibile valutare i cani. è stato giudice è stato giudice e io ho detto che andrò in via e lei è stato giudice la sua linea è giudice bravo quanto bravo 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 ok ok bravo 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 bimbo ma come ti fatti spostati e spostati e spostati e c'è un cavalletto scusa spostati ok Grazie a tutti. No, non è vero. Ciao, 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 ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.